Diamo il buongiorno alla dottoressa Irene Tessarine che è docente del centro studi podresca che sarà ospite questo pomeriggio della Feltrinelli di Rimini tra l'altro insomma un incontro molto pubblicizzato, mi è capitato proprio nel fine settimana io non resisto, devo entrare almeno una volta a settimana in libreria ho trovato proprio anche questo volantino che presenta l'incontro di oggi devo dire è molto affascinante questo tema perché si parla delle relazioni come un'abilità da conquistare cioè io così all'impronta direi, ci sono quei tipi che risultano poco simpatici e lo sono da piccoli e lo resteranno anche quando sono grandi, in realtà gli studiosi, lo chiediamo proprio alla dottoressa Tessarine in realtà sono abilità che si possono conquistare, quelle delle relazioni buone con gli altri buongiorno dottoressa, buongiorno a voi allora Irene ci racconti un po' che cosa sta al centro di questo vostro studio tra l'altro c'è proprio un libro anche insegnare le relazioni e anche del vostro centro studi che proprio lavora su queste tematiche infatti il centro studi Podresca è una scuola di alta formazione che ha sede in Friuli e da 30 anni ci occupiamo dello studio delle abilità umane quindi abilità che di solito pensiamo fanno parte del carattere e quindi ognuno dice beh sono fatto così e rimarrò così invece ecco gli studi dimostrano che noi possiamo comprendere queste abilità di relazione, di comunicazione ma anche come affrontare le esperienze e capire come funzionano e conquistarle ma veramente ci faccia qualche esempio pratico perché lo diceva bene uno si convince di essere in un determinato modo se sei un po' orso rimani orso per tutta la vita se sei sei persona chiacchierina rimani così per tutta la vita invece non è così non è così scontato insomma rimanere sempre uguali beh diciamo che è auspicabile proprio che le persone possano cambiare possiamo evolvere questo avviene attraverso le esperienze perché noi attraverso le esperienze cambiamo però anche noi possiamo facilitare questo percorso questo cambiamento attraverso uno studio sistematico ad esempio possiamo imparare a collaborare che non è scontato che riusciamo a fare le cose insieme agli altri e farle ad esempio senza litigare e riuscire anche ad ottenere non solo il risultato che facciamo quello che ci siamo prefissati ma anche che stiamo bene insieme altre abilità che noi possiamo conquistare esprimerci saper ascoltare saper scegliere ecco sono tutte abilità che a volte le vediamo negli altri e diciamo eh mi piacerebbe e invece noi possiamo insegnarle soprattutto ai bambini e ai ragazzi nel loro percorso formativo però anche noi adulti ecco come si parte con i bambini per poter insegnare questo modo di relazionarsi con gli altri che poi specie per i più piccoli è fondamentale sì in realtà è fondamentale per tutti e le relazioni sono il fulcro dell'apprendimento i bambini e i ragazzi imparano non solo perché le cose sono scritte chiare nei libri o perché ci sono dei compiti da fare ma soprattutto perché c'è una relazione la relazione è proprio lo strumento attraverso cui noi possiamo imparare per questo è così fondamentale queste abilità le possiamo conquistare attraverso sia la conoscenza capire come funzionano e quindi il centro studi Podresca ha ideato proprio un percorso come dire un'anatomia e una fisiologia delle abilità personali e poi attraverso proprio un percorso pratico immagino sia più semplice insegnare ai bambini più piccoli piuttosto che a quelli che sono cresciuti e già hanno anche una fisionomia più definita ma in realtà io vado nelle scuole dall'infanzia fino alle superiori all'università e ci sono sfide diverse però si possono conquistare queste abilità ad ogni età si parla di relazioni ma soprattutto si parla di buone relazioni perché ricordiamo che la qualità è anche uno dei concetti fondamentali Sì, la qualità delle relazioni è data da tanti parametri ad esempio saper comunicare e creare comprensione che questo non è scontato noi parliamo tanto ma non è detto che ci sentiamo compresi ad esempio un dato che mi danno tanto i giovani, i ragazzi soprattutto è che si sentono soli pur essendo tanto in contatto anche con i media, internet c'è tanto contatto ma non c'è comprensione coesione veramente sentirsi visti ecco, quindi le relazioni noi possiamo vederle non solo come quantità conosco tanta gente ma soprattutto la qualità della relazione che ho Anche perché è importante parlare, raccontare ma anche saper ascoltare gli altri questo immagino sia anche uno degli aspetti fondamentali Sì, infatti uno degli strumenti principali che usiamo per imparare queste abilità è proprio il saper ascoltare che non è solo essere passivi ma voler veramente comprendere l'altro saperlo duplicare in sé saper cogliere che cosa l'altro sta esprimendo anche sentire empatia ecco, tutte queste abilità c'è chi le ha già fanno parte del loro modo di essere ma noi possiamo proprio svilupparle e sentire il piacere e i risultati che ci porta a saper ascoltare Dottoressa, noi la ringraziamo per averci anticipato alcuni dei temi che saranno poi affrontati lo ricordiamo questo pomeriggio appuntamento dalle 18 alla Feltrinelli di Rimi siamo in pieno centro storico in corso d'augusto l'appuntamento le relazioni come abilità da conquistare Dottoressa, grazie e buon incontro grazie io vi ringrazio ci tenevo anche a dire che è proprio una collana di libri che presenta questo studio quindi la collana dell'arte di educare noi oggi presentiamo il primo volume insegnare le relazioni di Silvana Tiani Brunelli ma torneremo alla Feltrinelli anche il 15 marzo con Esprimere e Conoscere Se Stessi che è un'altra abilità importante e anche che stiamo raccogliendo le adesioni per un corso dedicato agli insegnanti in modo che possano portare questa abilità a scuola è davvero ce n'è bisogno visto com'è la scuola a volte oggi tra l'altro vorrei ricordare che il centro studi diceva inizialmente la dottoressa è friulano quindi forse nel nostro territorio meno conosciuto ma ha dei riconoscimenti internazionali importantissimi per cui forse abbiamo bisogno di conoscervi un po' meglio quindi siamo contenti facciate queste incursioni anche a Rimini sì il nostro obiettivo è portare questa ricerca in tutta Italia stiamo collaborando anche con scuole estere e questa ricerca è stata presentata come buona prassi all'ONU quindi si va tanto fuori ma è importante portarlo qui nelle nostre scuole ci sono tanti insegnanti anche genitori che lo vogliono che stanno collaborando quindi il nostro obiettivo è farci sentire spesso e speriamo di sentirci anche con voi di Radio Icaro e raccontarvi che cosa stiamo progettando qui nella vostra zona molto volentieri poi se volete venire a fare anche un esperimento qui da noi un po' su come anche dei piccoli esempi di come ci si aiuta sarebbe davvero bello per cui glielo proponiamo dottoressa la prossima volta che capita da Rimini volentierissimo buona giornata a voi grazie 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 a tutti